Questo programma è stato presentato da Contorno più Orogel e Idealista, app per cercare casa. Conoscete la storia, la regina cattiva, specchio specchio delle mie brame, la magia, l'amore, amore di cucciolo. Sai che me ne faccio di un cucciolo? Tu sei il mio padrono! E tanta confusione. A capo dei banditi c'è Biancaneve. State con i banditi. E voi con la regina! Il bacio del vero amore è quello che libera da un incantesimo. Biancaneve. Domani 21.25. Rai 1. Queste mani sono quello che hai di più prezioso. Ti permetteranno di raggiungere quello per cui sei fatto. La musica. Sei mesi di lavori socialmente utili per Mattia Malinsky. Tu non lo puoi salvare, Piero. È un genio, ha un dono. Un genio che non si applica con o senza dono. Non è niente. Perché suona il pianoforte? Il concorso si terrà tra poco più di quattro mesi. Io non lo posso fare. Perché suona il pianoforte? Non ti rendi conto? È stata la rampa di lancio di tutti i grandi pianisti. In prima visione, nelle tue mani. Mercoledì 21.25. Rai 1. Dal cuore dell'Equador, il miglior cacao che Novi sa come trasformare in un cioccolato di qualità superiore. E oggi in ben 15 specialità. E tu? Quale scegli? Novi, il grande cioccolato italiano. Questo si usa quando si indica qualcosa che è vicino a chi parla. Quello invece è quando si indica qualcosa che è lontano da chi parla. No, 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 no. Cos'è questo? Facile. Il casolare. Questo è quello buono. Questo è il casolare. Quello buono. Salute, bellezza, le ricerchiamo ogni giorno. Ma esiste una formula. Il nostro lavoro inizia dal tuo ascolto e continua con la ricerca delle risposte. Studiando la natura e i suoi meccanismi. Per riprodurli grazie all'innovazione del laboratorio e impiegarli in combinazioni sempre nuove. Per arrivare a soluzioni sicure, efficaci e piacevoli. Che rispettano la tua salute e l'ambiente. E che assieme ai nostri consigli compongono la nostra formula. Farmacisti Preparatori. La formula autentica del benessere. Da MediaWorld. Prezzi fatti a pezzi. Con i mega sconti. Tante offerte sulla migliore tecnologia in negozi online. Notebook Acer Aspen 3. Con processore Intel Core 5. Col 15% di sconto. A soli 645,15 euro. MediaWorld. Fatto apposta per me. E' quel gusto che ti fa sciogliere le parole in bocca. E' quella passione che fa scattare l'amicizia. San Crispino è così. L'abbinamento perfetto alle emozioni di tutti i giorni. San Crispino. Il nostro vino. Salute le frontiere della medicina. Le grandi conquiste della ricerca fino al nuovo vaccino contro il Covid. In una collana di libri inediti a cura di Roberto Burioni. Perché il benessere di tutti è responsabilità di ciascuno di noi. Il primo volume vaccini è in edicola. Tra pentole, padelle, coltelli poco affilati. La buona cucina merita l'URPAC. Non farti cogliere di sorpresa. L'Ontax spray nasali creano una barriera fisica protettiva prevenendo l'insorgenza dell'infezione e alleviandone i sintomi. L'Ontax. State lontani, virus del raffreddore. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrova in un supermercato. In una selva di calze infinita. Sceglierne una sarebbe un inferno. Ma io non ho dubbi. La calza kinder è l'unica con dentro bueno, cereali, cioccolato, maxi. Sono divine. E tutte già pronte. Calza kinder piace tutta, proprio a tutti. I buchi neri. Il bosone di X. Una passeggiata nel cosmo. Una biblioteca di preziosi volumi per esplorare l'universo e i suoi segreti. Primo volume, la materia oscura. Solo 1,99 euro. Partiamo da un'idea di futuro. Un futuro dove innovazione e sostenibilità si muovono nella stessa direzione. Dove costruire e creare valore condiviso. Un futuro dove la tecnologia più avanzata rende la vita più semplice. E dove progresso significa andare avanti. Tutti. Perché il futuro è la nostra destinazione. Solo se è un viaggio che facciamo insieme. L'audio descrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti o su Radio 1 in onde medie o sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando. Questo programma è presentato da Olio Zucchi e Idealista, app per cercare casa. Oggi a lezioni di Etichetta Pet, Monge vi racconta perché i suoi croccantini monoprotein sono buoni per il vostro gatto e anche attenti alla sostenibilità. I croccantini Monge Natural Super Premium alla trota sono formulati con una singola fonte proteica animale. Contengono rosa canina, sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e prodotti in Italia. Inoltre Monge si impegna a promuovere un'economia maggiormente sostenibile, producendo buona parte del suo fabbisogno elettrico. Monge, il pet food che parla chiaro. Buone feste da Monge. Si dice che bere estate a Natale elimini la probabilità di ricevere imbarazzanti maglioni. In ogni caso, mica male bere estate a Natale? Estate, te best. Puoi acquistare i buoni e il libretto smart comodamente da casa. Scegli il buono più adatto a te, inserisci i dati ai documenti richiesti, fai un bonifico bancario, firma. I buoni e i libretti di cassa depositi a prestiti li trovi solo da poste italiane. Prima della sottoscrizione, leggere il foglio informativo. Ai preziosi regali di madre natura. All'uomo, che lavora la terra da secoli senza sosta. Alla volontà di arrivare sempre un passo oltre. Alla bellezza, che ci ispira ogni giorno. Alla capacità di sorprendersi. Alla voglia di osare. Brinda più in grande. Prosecco Doc Rosé. Lo stesso Italian Genio. Un modo nuovo e sorprendente d'esprimere l'eccellenza. Prosecco Doc Rosé. Osa in rosa. Intesa San Paolo. Il valore del talento e della cultura. Il nostro impegno. Caffè Gimocca. Piacere mio. Le Fablie presenta Quando ti ho visto. Quando ti ho visto, ho capito che nel mio cuore c'è posto solo per te. Arredare casa è l'inizio di una meravigliosa storia d'amore. Le Fablie. Valori per sempre. Perché l'Italia amò Mussolini e come oggi resiste alla dittatura del virus. Il nuovo libro di Bruno Vespa. Sgorgo dalle vette incontaminate a Binadio. Ho un bassissimo residuo fisso e sono povera di sodio. Nasco per dissetarti e sono l'acqua delle mamme italiane che mi scelgono per la preparazione degli alimenti dei loro piccoli. Acqua Sant'Anna. Leggera in origine. Casanova. Pantera. Cuor di leone. Narciso. Polpetto. Comunque sia. È unico. Miglior gatto unico. Una proteina. Mille qualità. Morando. La storia del pet food in Italia. Non farti cogliere di sorpresa. L'Ontax spray nasali creano una barriera fisica protettiva che intrappola i virus del raffreddore. Prevenendo l'insorgenza dell'infezione e alleviandone i sintomi. Prevenzione. Protezione. Puoi difenderti dal raffreddore con l'Ontax. L'Ontax. State lontani virus del raffreddore. L'eccellenza nel caffè si raggiunge scegliendo i chicchi migliori e tostandoli alla perfezione. Fammi godere il suo caffè. È buono? L'Olocaffè. È buono, è buono. È buono, è buono. Conoscete la storia. La regina cattiva. Specchio specchio delle mie bravi. La magia. L'amore. Amore di cucciolo? Sai che me ne faccio di un cucciolo? Tu sei il mio padrone! E tanta confusione. A capo dei banditi c'è Biancaneve. State con i banditi. E voi con la regina. Il bacio del vero amore è quello che libera da un incantesimo. Biancaneve. Domani 21.25. Rai 1. Non siamo mai stati così vicini, nonostante tutta la lontananza. Un anno nuovo sta per arrivare. Salutiamoli insieme. Come sempre. Con le l'amore. Questo si usa quando si indica qualcosa che è vicino a chi parla. Quello invece è quando si indica qualcosa che è lontano da chi parla. Nonno, nonno. Cos'è questo? Facile. Il casolare. Questo è quello buono. Questo è il casolare. Quello buono. Ci sono messaggi che in un istante ti fanno sentire che qualcuno è sempre con te. Anche Unipol sai è sempre con te. E mentre tutti lottiamo contro il virus, ha deciso di regalare ai suoi 10 milioni di clienti una copertura sanitaria Unisalute. Per aiutarti in modo concreto nelle possibili conseguenze del Covid-19. Regalarti serenità e come ogni giorno prendersi cura di te. Unipol sai. Sempre un passo avanti. Il tempo per te è il tesoro più prezioso. Ogni giorno con Tesori d'Oriente concediti un rituale di puro piacere. Tesori d'Oriente. Essenze di benessere. Foxy Tornado. Tre veli e 250 strappi con vortici super assorbenti. Adatto a tutto e a tutti. Foxy Tornado. Il rotolo universale. Pare che consumare sta te a Natale inibisca i parenti dall'esercizio spasmodico del karaoke. In ogni caso, mica male bere sta te a Natale? Best a te. Te best. Non farti cogliere di sorpresa. L'Ontax spray nasali creano una barriera fisica protettiva che intrappola i virus del raffreddore. Prevenendo l'insorgenza dell'infezione e alleviandone i sintomi. Prevenzione. Protezione. Puoi difenderti dal raffreddore con l'Ontax. L'Ontax. State lontani, virus del raffreddore. Magiche storie sonore Disney. Tante fantastiche storie da leggere e ascoltare insieme ai loro protagonisti. Se cambi il personaggio, cambia la fiaba. Prima uscita in edicole su deagostini.it Frusseco Maschio nasce in un territorio unico. Dalla passione, dall'esperienza e dall'amore per la tradizione. Frusseco Maschio è l'alleato perfetto nei tuoi momenti speciali. O per brindare a qualcosa di nuovo con gli amici di sempre. Maschio. Stappa un sorriso. In streaming ora. Ora devo riprendermi il mio corpo. Perché? La terra mi annoia. Ma la vita sulla terra ha tanto da offrire. Dobbiamo ancora provare la breakdance. Popping, locking, risolvere i conflitti con la danza. Soul, in streaming ora. È possibile rinascere. Un oggetto funzionale può essere trasformato in un'icona di design. Un'auto a combustione può rinascere elettrica. Voi credete nella rinascita? Nuova Fiat 500. 100% elettrica. Da 99 euro al mese. Queste mani sono quello che hai di più prezioso. Ti permetteranno di raggiungere quello per cui sei fatto. La musica. Sei mesi di lavori socialmente utili per Mattia Malinsky. Tu non lo puoi salvare, Piero. Ma è un genio, ha un dono. Un genio che non si applica con o senza dono. Non è niente. Perché suona il pianoforte? Il concorso si terrà tra poco più di quattro mesi. Io non lo posso fare. Perché suona il pianoforte? Non ti rendi conto? È stata la rampa di lancio di tutti i grandi pianisti. In prima visione, nelle tue mani. Mercoledì, 21 e 25. Rai 1. Va di largo perché sta tornando. Il mio primo convento. È incredibile che azzura diventerà suora proprio qui dove tu hai preso i buchi. Pronta? Grazie. Cominciamo bene. Madre. Senti, bambina. Devi dare retta a me. Nuovi ritorni. Ginevra lea buona. Hai visto? Che gambe. Per ogni cosa per sposare te. E nuovi arrivi. Sorpresa! Devi dire subito a suorangela chi è peggio. Impossibile. Non esiste. Ti diverti, eh? Come operaio non vale niente. Che cosa ci fai qui? Cerco mia madre. In prima visione. Ah! I nuovi episodi di... Che Dio ci aiuti. Da giovedì 7 gennaio su Rai 1. C'è qualcosa di magico che entra ogni giorno nelle case di tutti. Golosi del dolce o del salato. Pignoli o pasticcioni. Fanatici dei robot o delle mani in pasta. Con Pane Angeli il successo è una magia garantita per tutti. Perché da sempre mettiamo alla prova i nostri prodotti in ogni condizione. Compresa quella di casa tua. Pane Angeli. La magia nelle tue mani. Puoi acquistare i buoni al libretto smart comodamente da casa. Scegli il buono più adatto a te, inserisci i dati e i documenti richiesti, fai un bonifico bancario, firma. I buoni e i libretti di cassa depositi a prestiti li trovi solo da poste italiane. Prima della sottoscrizione leggere il foglio informativo. Diete Tic. Il dolcificante liquido senza calorie e senza retrogusto. Diete Tic. Gocce di pura dolcezza. Quando avete messo su casa, prosciutto di Parma era lì. Così come in tutti i momenti veri della vita. Perché prosciutto di Parma fa parte di te. Prosciutto di Parma. Non è crudo. È di Parma. Ma quanti profumi ci sono nei bagno doccia a felce azzurra. Oggi ho voglia di freschezza. Provo pergamotto e fiori di cedro. E domani ne provo un altro. E a Natale festeggiamo con felce azzurra. Auguri a tutti. Dal cuore dell'Ecuador, il miglior cacao che Novi sa come trasformare in un cioccolato di qualità superiore. E oggi in ben 15 specialità. E tu? Quale scegli? Novi, il grande cioccolato italiano. Disinfetti in casa. E disinfetti in ufficio. E disinfetti in palestra. Ovunque lo passi, Norica Plus disinfetta in uno spray. Scopri Norica Plus. È un presidio medico chirurgico. Ehi, tu? Non li hai ancora provati? Sì, con riso, senza l'azzo. Sono buonissime. Una nuova linea di benedina. Sono davvero buone. Ma proprio buone per tutti. Dai, provali subito. E ci sono gustose novità. Bella idea, dottor Scotti. Ho 50 anni. E mi sento bella. Ogni giorno scelgo Bionique e Defense My Age. Per vivere al meglio i cambiamenti della mia pelle. Più luminosa ed elastica. La mia pelle è come rinnovata. Defense My Age. L'alba di una nuova bellezza. Da Bionique. In farmacia. Queste non saranno le solite feste. Ci faranno riassaporare il gusto delle cose vere e autentiche. Quelle che non hanno bisogno di nient'altro. Proprio come Parmigiano Reggiano. Perché quello vero è uno solo. Buone feste da Parmigiano Reggiano. Non farti cogliere di sorpresa. Lontax spray nasali creano una barriera fisica protettiva che intrappola i virus del raffreddore, prevenendo l'insorgenza dell'infezione e alleviandone i sintomi. Prevenzione. Protezione. Puoi difenderti dal raffreddore con Lontax. Lontax. State lontani, virus del raffreddore. Buone feste. Tutto è iniziato a Trento, durante la guerra. Maestra, quando ho cattivo le bombe, ho pregato. Perché Gesù non mi ha ascoltato? Lo so che è difficile da credere, ma ho sentito una voce. Mi ha detto, datti tutta me. Cristiana Capotondi è Chiara Lubic. Chi ha la possibilità deve donare a chi ha più bisogno. Da quando una donna può stabilire cosa comanda Gesù. Chiamano la casa focolare. Altri la chiamano la casa dell'amore. Dio al tuo signore che stavolta offro io. La guerra è finita. E' questo il desiderio di Gesù? Essere una cosa sola. Camillo. Solti, la mia preghiera ha funzionato. E che cosa hai chiesto a Gesù? De non farti morire. In prima visione Chiara Lubic. L'amore vince tutto. Domenica 21 e 25. Rai 1. Questo programma è stato presentato da Olio Zucchi e Idealista, app per cercare casa. Conoscete la storia. La regina cattiva. Specchio specchio delle mie brame. La magia. L'amore. Amore di cucciolo? Sai che me ne faccio di un cucciolo? Tu sei il mio padrono! E tanta confusione. A capo dei banditi c'è Biancaneve. State con i banditi? E voi con la regina! Il bacio del vero amore è quello che libera da un incantesimo. Biancaneve. Domani 21 e 25. Rai 1. Oggi a lezioni di etichetta pet. Monge vi spiega perché scegliere i croccantini Monge Natural Super Premium Monoprotein alla trota. Formulati con una singola fonte proteica animale I croccantini Monge Natural Super Premium alla trota contengono rosa carina. Sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti i prodotti in Italia. I croccantini Monge Monoprotein sono disponibili anche nelle ricette Kit & Trota e Sterilize Amatra. Oppure potete scegliere i prelibati di sfilaccetti Monge Monoprotein in lattina. Monge, il pet food che parla chiaro. Il mal di gola rischia di rovinare i tuoi piani? Puoi provare tanto un verde gola nebulizzatore. Grazie al suo principio attivo abbatte il dolore mentre cura l'infiammazione della gola dando un rapido sollievo. Così nella tua vita torna il sereno. Tanto un verde gola. La vita è bella quando il mal di gola passa. Da Angelini I buchi neri Il bosone di gola X Una passeggiata nel cosmo Una biblioteca di preziosi volumi per esplorare l'universo e i suoi segreti. Primo volume La Materia Oscura Solo 1,99 euro E' quel gusto così buono che ti fa sciogliere le parole in bocca. E' quella passione così autentica che fa scattare l'amicizia. Ecco, San Crispino è così. fatto con passione da migliaia di soci viticoltori l'abbinamento perfetto alle emozioni di tutti i giorni. San Crispino il nostro vino Foxy Tornado 3 veli e 250 strappi con vortici super assorbenti. Adatto a tutto e a tutti Foxy Tornado Il rotolo universale È tecnologia che incontra l'emozione Performance che ridefinisce l'equilibrio Versatilità che modella l'efficienza È il plug-in hybrid EQ Power di classe A 50% elettrico 100% Mercedes-Benz Scopri anche la Special Edition Premium Plus Non possiamo riscaldare la serata ma il nostro Sesto Senso sa come tenerti in caldo la cena Non sappiamo se è la serata che ti aspettavi ma sappiamo come cucinare un pollo al vapore inaspettatamente croccante La nostra tecnologia Sesto Senso sa cosa conta per te e ti aiuta a viverlo al meglio Whirlpool Sensing What Matters La cura anti-covid sta arrivando Prenota oggi le tue vacanze pasquali ed estive con Ryanair Tantissimi voli in vendita da 19,99 euro verso fantastiche destinazioni in Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e molte altre ancora Prenota e parti Prenota oggi su Ryanair.com Non preoccuparti se i tuoi piani cambiano poiché non verrà applicato nessun supplemento per il cambio volo Da Valsoia io so il mirtillo buonissimo e 100% vegetale ogni giorno sì a Valsoia da oggi anche alla mandorla La piccola utilitaria si scatena in pista Abarth 695 costruiscila in un grande modello con dettagli super fedeli e Sound Abarth prima uscita con DVD solo 50 centesimi Amici stiamo preparando una puntata fantastica dei soliti ignoti dedicata alla Lotteria Italia tanti ospiti tante sorprese insomma un appuntamento da non perdere anzi segnatelo subito mercoledì 6 gennaio soliti ignoti naturalmente Lotteria Italia e insieme scopriremo il biglietto da 5 milioni di euro Nessuno vuole essere normale siamo interessanti sensibili profondi tu prendi l'antipsicotico per le allucinazioni e questo è per l'ansia chiaro no? ognuno è molto importante per la guarigione dell'altro in esclusiva mental tutta la serie è ora disponibile su Rai Play le 23.52 le 23.52 gli ultimi aggiornamenti buonasera dal TG1 la campagna di vaccinazione anti-covid domani dovrebbero arrivare dal Belgio altre 470 mila dosi il secondo carico dopo quello simbolico del V-Day ma il maltempo potrebbe ritardarne la consegna Piemonte e Liguri hanno già comunicato lo slittamento e c'è il caso dell'acquisto da parte della Germania di 30 milioni di fiale al di fuori del piano europeo l'acquisto centralizzato è una bella pagina dell'Europa ha detto il commissario Arcuri speriamo non si debba interrompere intanto l'ordine dei medici ha aperto un'inchiesta su 13 iscritti no-vax e negazionisti l'epidemia in Italia sono oltre 8.500 i nuovi casi con 68.000 tamponi 445 le vittime scende al 12,5% il tasso di positività e fino a mercoledì il nostro paese torna in zona arancione con misure quindi meno restrittive sarà di nuovo zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio sul tavolo del Premier Conte i documenti dei partiti di maggioranza sul recovery plan Renzi presente il suo controprogetto e annuncia senza un'intesa lasciamo dal PD Zingaretti ribadisce dobbiamo cambiare il paese e Di Maio avverte basta polemiche il centrodestra attacca maggioranza divisa e in ritardo il maltempo con l'ondata di gelo sull'Italia bufera di neve al nord Milano in biancata alberi caduti disagi e traffico in tilt a Napoli una forte mareggiata invaso e lungomare Caracciolo chiusa via Partenope dove il forte vento ha danneggiato le strutture di bar e ristoranti bene è tutto il TG1 torna domani mattina grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata su Rai 1 arrivederci grazie per l'attenzione